Sentiamo come si muove la tua colonna vertebrale. Devo fare un piccolo massaggio qua, sarà un po' fastidioso. Abbiamo degli stimoli per allentarne la tensione. Ok, lasciamo morbida la spalla. Giù, fatto male? No. Si aggiusta anche a destra, dove il segmento è più basso, ma anziché così, in lateralità. Ecco, fatto. Buongiorno a tutti. Oggi sono con Martina, che è venuta ad accompagnare un suo amico in visita e alla fine si è incuriosita e ha deciso di fare una visita anche a lei. Quindi adesso ci concentriamo sulla prima parte, diciamo, anamnestica e poi passiamo alla visita in sé per sé. Quindi Martina, immagino tu non abbia problemi in particolare, è più un check-up generale? No, sono soltanto curiosa di provare. Di provare, esatto. Ok. Ascolta, c'è qualcosa nel tuo corpo che non funziona oppure che vorresti migliorare? Beh, io lavorativamente parlando sono molto sedentaria, faccio un lavoro molto sedentario. Computer? Esatto. Quindi una postura chiusa? Esatto. Ti capita anche di caricare dei pesi, di prendere in braccio, insomma? No, perché lavoro sul computer, quindi... Da quanto tempo conduci questo stile di vita sedentario? Un annetto all'incirca. Ok, quindi un pochino. E queste tensioni, questa postura è uscita fuori subito o dopo un po' che lavoravi? No, devo dire dopo un po'. Dopo un po', perfetto. Inizialmente ero più composta. Ascolta, hai per caso anche dei mal di testa, delle vertigini? No, non mi capita in particolare. Niente di questo, ok. Hai mai fatto lavori con i denti? Faccio esempio ortodonsia, piuttosto che estrazioni, piuttosto che bite? Sì, porto il bite la notte, ma... Di notte, sopra o sotto? Sopra. Ok. Come mai lo porti? Semplicemente perché ho sofferto di bruxismo. Ok. E adesso stringi ancora? Sì, qualche volta. Hai mai fatto radiografie di risonanza o altri accertamenti? Sì, certo, RX cranio e... Per quale motivo? Per questo motivo che... Ah, per il bite, ok. Sì. Pensavo avessi fatto giusto delle scansioni dei denti o invece ti hanno fatto fare proprio un RX cranio. Sì, RX, sì. D'accordo. E per caso quando apri o muovi la bocca per parlare, per masticare, ti clicca la mandibola? A volte. Destra o sinistra? Entrambi. Perfetto. Ha mai subito traumi, fratture, incidenti? Fratture soltanto a linea verde del polso. Destro o sinistro? Destro. Ok. E quindi eri piccola? Sì. Ok. Ha mai subito infortuni sportivi? No. Distorsioni caviglie, ginocchia, spalle? Cadute, sul sedere, traumi sulla testa? No. Niente di tutto ciò. Ok. Interventi chirurgici ne hai mai fatti? No. Perfetto. Ha suoi medicinali? Nemmeno. Ok. Hai problemi col cuore, la pressione, la circolazione, il colesterolo? Soffri di asma, affanno, tosse, apnei notturne? No. Niente di tutto ciò. Ok. Hai per caso familiarità con qualche patologia? Oppure soffri tu stessa di qualche disturbo che insomma ti... Che io sappia no. Ok. Perfetto. C'è altro che vorresti aggiungere oppure diamo un'occhiata? Diamo un'occhiata. Perfetto. Ti faccio togliere le scarpe. Ok. Mi interessa sempre sapere, adesso non è il suo caso, mi interessa sempre sapere il motivo della visita, quindi perché hanno deciso di venire qua, se c'è un problema, da quanto tempo hanno questo problema, se questo problema rimane circoscritto o si irradia, cosa lo fa peggiorare, cosa lo fa migliorare, se ci sono delle attività o delle posizioni che ne cambiano la natura e poi cerco di capire la sua storia medica antecedente, quindi se soffre di qualche problema, se sono medicinali, se ha fatto interventi, se ha avuto infortuni, incidenti, insomma lesioni di altro tipo, oppure se ha portato qualche, se ha dovuto fare qualche accertamento per cosa l'ha fatto, insomma l'evoluzione del problema per cui ha fatto l'accertamento anche se non coincide con il motivo della visita. Tutto questo per completare un quadro clinico che poi oltre a suggerirmi dove andare a lavorare mi permette anche di escludere i problemi un po' più gravi o magari di sospettarli e quindi di riferirla, di mandarla in visita da uno specialista per poi capire come impostare al meglio il piano di lavoro. Detto ciò, torniamo a noi. Allora, vieni qui Martina, ti faccio salire su questa impronte, girata di schiena. Ok, e guarda dritta, perfetto, facciamo una piccola valutazione posturale. Allora, l'orecchio è leggermente più alta a sinistra, la spalla al contrario è leggermente più alta a destra, sì questa è proprio la classica postura da lavoro e anche il bacino è leggermente più alta a destra. Ok, se adesso prendo come riferimento l'osso sacro e l'occipite, se è allineata, non abbiamo problemi sul piano dell'allineamento. Il peso, guarda dritta sempre. No, abbiamo giusto due chili in più a destra ma nel range più o meno 5 consideriamo tutto normale. D'accordo, scendi pure. e ti faccio accomodare, seduta. Rilassata. Vediamo come muovi il collo, lo muovi bene. Questo è un ottimo caso effettivamente perché mi serve per dimostrarvi, per farvi capire che la chiropratica non è solamente per le persone che hanno dei dolori o hanno un problema che vogliono risolvere, ma anche per le persone che già stanno bene ma vogliono stare meglio di come stanno o comunque prevenire eventuali problemi e quindi questo è un caso lampante. Morbina. Quindi il focus lo mettiamo sulla salute e non sulla malattia. Giù, questa spalla scrocchietta un po', eh. Ascolta, hai fastidio qui? Sì. Qui un po' meno, vero? Sì. Dovresti avere la stessa cosa qui su? Sì. Qui un po' meno? Sì. Se però vengo in mezzo dovrebbe essere un po' più fastidioso qua e qua un po' meno? Vero. E se vengo sotto un po' qua, qua un po' meno? Sì. Perfetto. Allora, sentiamo come si muove la tua colonna vertebrale. Eh sì, qua si è bloccata nel tratto superiore, anche la dorsale bassa. Fa fastidio qua, vero? Sì. E la lombare. Ok, ho trovato due zone di tensione principale, oltre alla cervicale qua. Abbiamo trovato la parte dorsale alta, la parte dorsale bassa e la lombare, tutto sul lato destro. Quindi, con queste informazioni, ti faccio sdraiare la pancia in aria. Ok, rilassata, morbida, ma ruoti bene. Qui un po' meno. Allora, senti la differenza tra questo e questo? Senti che questo ruota un po' di meno? Sì. Però le gambe sono pari. Ascolta, attenzione qua? Un po'. Di qua? Un po' meno. Un po' meno. La tensione è qua? No. Qua? Sì. Ok. Quindi si inverte un pochino. Internamente a destra, esternamente a sinistra. Giusto? Sì. No, è peggio qua. Di qua. È peggio qua. Ah, è peggio qua. E poi sull'esterno è peggio qua. Sì. Sì, quindi si inverte, giusto. Poi dovresti avere un po' di fastidio qua. E qua meno? Sì. E poi dovresti avere perdonami un po' di fastidio qua. E qua meno? Sì. Ok, perfetto. Mani. Dretti i gomiti, spingi in dentro, uno contro l'altro, forte, forte, forte. Spalanca la bocca, spingi, stringi i denti, spingi, spingi. Quando stringi i denti senti che fai molta più fatica a spingere? Sì. Perché quello ti crea un'interferenza kinesiologica e quindi diciamo che disattiva determinati muscoli. Ok? Adesso io ora lì ci andrò a lavorare. Però voglio anche capire se, diciamo, la tua presentazione di oggi è unicamente sul piano meccanico, quindi ossa e muscoli. Oppure se c'è qualcos'altro sotto. Ok? Quindi testiamo prima i muscoli. Ma col ginocchio dritto spingi la gamba in su. Ginocchio dritto, spingi in su. Forte, forte, forte. Ok. Di qua. Ok. Adesso. Mano qua e l'altra qua. Ora, con quella configurazione lì, spingi su di nuovo. Spingi su. Fai fatica, vedi? Sì. Spingi su di qua. Quindi sicuramente sul piano biomeccanico abbiamo un problema. Una disfunzione. Qua. Qua. Spingi su. No, qui va bene. Spingi su. Senti che qui attivi meglio? Questo era il test metabolico. Qua. Spingi su. Su. Qui va bene. Su. Su. Anche qui perdi, eh? Su. Questa è la coordinazione del sistema nervoso. Togli. Devo fare un piccolo massaggio qua. Sarà un po' fastidioso, eh? Prima qua. E poi qua. Fa male, vero? Questi sono i punti finali sul meridiano del rene. Si chiamano K27. Quando li tocco insieme, spingi su. Senti adesso com'è meglio. Spingi su. Ok. Hai fastidio qua? No. Qua? No. Perfetto. Meglio così. Su l'esterno. Spingi su. Su. Spingi su. Su. No. Ok. Va bene. Trovami l'ombelico, per favore. Ok. Tocca qua. E qua. Spingi su. Su. No. Perfetto. Ok. Lavoreremo unicamente sul piano muscolo-scheletrico oggi. Abbiamo visto che quando stringevi i denti, perdevi un po' l'attivazione dei pettorali. Giusto? Sì. Adesso i muscoli che ti fanno stringere i denti sono il sinergista, è il temporalis, il muscolo che giace sopra l'osso temporale, e l'agonista è il massetere, questo qua, che è tra l'altro il muscolo più forte del corpo. Quindi dovrò trattarli, lavorarli, in sequenza. Ok? Cominciamo da destra. Essendo loro molto tesi e ipertonici, diamo degli stimoli per allentarne la tensione. un po' di qua. Se volessi essere proprio preciso dovrei lavorare gli epteri quei dei fra un lato e l'altro. ok, adesso prendo un secondo questo strumento. se è troppo me lo dici. Ok. 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 allora adesso facciamo lo stesso test stringi i denti spingi le braccia vedi come sei forte adesso ok ora non avendo lei problemi primari vado a fare un full body adjustment tieniti con le mani al lettino eccolo no non puntare il piede faccio tutto io rilassata eccolo qua lascia lascia eccola qua ottimo tieniti forte perché tiro forte adesso è rilassata con la gamba però lascia fammela piegare ecco qua ok ecco qua il ginocchio rilassata con la gamba perfetto questo è bello perfetto mano qua dietro rilassata lascia morbida la spalla giù fatto male mani qua su da me è un po più corta a sinistra non so se lo senti ci fai caso no senti il tuo indice sinistro a che livello tocca l'indice destro senti che non è punta contro punta vero giro la testa a destra ora invece dov'è più sopra bravissima ora sono punta contro punta adesso abbiamo visto che il tuo cervello ti percepisce dritta quando tu in realtà stai così ok questo significa che l'emisfero sinistro non sta lavorando tanto quanto l'emisfero destro ok qui devo stimolare l'emisfero sinistro a lavorare di più d'accordo questo ovviamente è un segno non è tutta la visita neurologica però è un indicatore per stimolare l'emisfero sinistro bisogna aggiustare in posteriorità così come ti vuole il tuo corpo abbiamo trovato il segmento sono stato fortunato perché ci sono capitato sopra morbida rilassata occhi chiusi ecco qua e per stimolare sempre a sinistra si aggiusta anche a destra dove il segmento è più basso ma anziché così in lateralità ecco fatto adesso con la testa così dammi le mani quassù senti ora tu sei dritta senti che gli indici sono pari perfetto braccia giù rilassata mano qua dietro sarebbe da vedere anche il tuo bite per capire se ti aiuta parecchio la notte o meno morbida pancia sotto per favore martina braccia giù braccia giù per favore guarda hai braccioli sotto il poggiatesta bravissima calcia su spingi guarda ti faccio vedere cosa intendo spingere così vai 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 ok qua perfetto adesso stimolo di qua calcia su va bene stimolo di qua calcia su calcia su vedi che qua perdi l'attivazione quando io stimolo io credo che tu avrai fastidio qua adesso sì e dovresti averne anche qua sì se io però premo qua migliora questo sì ok la gamba sì adesso la gamba che ho messo sotto stress il bacino si è allungata sulla sinistra però diventa pari significa che devo aggiustare proprio il bacino l'area lieca draghiata sul fianco destro per favore girata verso di me allora che cosa significa che il tuo la parte sinistra del tuo bacino è ruotata in avanti quindi io adesso contatto qua e la tiro indietro ok tu stai rilassata con la testa guarda al soffitto rilassa ok l'altro lato anzi pancia sotto ora braccia giù rifaccio lo stesso test calcia su vedi che adesso tieni ok rilassata ecco qua adesso per amplificare il risultato della correzione che ho fatto ti lascio qualche minuto su questi cunei asciugliamo un po' la muscolatura ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lascia morbida, fammela muovere. Vieni in piedi, mani sui fianchi, spingi indietro il gomito, veloce, eccolo qua. L'altro, girata, veloce, guarda così, eccolo là, perfetto, aspetta sediti un secondo, dritti i gomiti, spingi in su, spingi in su, spingi in su vuol dire fare questo. Vai, bravissima. Vai, 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 vai. Vai, 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 a posto, stai bene, confermo. Grazie. Cammina un po' e ci dici come ti senti, primi feedback. Beh, molto, molto meglio, molto più libera. Libera? E mobile anche, ti muovi bene? Ottimo. È stato un piacere Martina, grazie a te.